Buongiorno, eccoci a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a coinvolgerlo, no? A portarla qui per parlare di una problematica. Zecche, le zecche. Quest'anno se ne vedono parecchie, ma è una sensazione o effettivamente ce ne sono di più rispetto agli anni passati? Chi mi parla? Chi me ne parla? Lui. Lui, lui. Mi piace subito. Lui. Perché poi lavorate sempre, no? Per parlare di queste problematiche, tenete sempre relazioni, conferenze insieme, studi insieme. Sì, diciamo che per rispondere alla sua domanda bisogna analizzare un po' qual è l'andamento anche legato all'ambiente in cui questi animali vivono e a quali sono le condizioni. Diciamo il parametro più importante da tenere presente è l'umidità. Per cui se noi pensiamo a come è stato il tempo, diciamo dall'inizio dell'anno, vediamo che abbiamo avuto un alternarsi di periodi di pioggia, anche intensi, ad alternarsi di periodi molto caldi. E queste sono le condizioni migliori per favorire la dispersione, l'aumento e la diffusione di questi animali sul territorio. Perché non è come si pensa, nel senso che non si fissano soltanto su alcuni ospiti. In realtà l'Xodes ricinus, che è la zecca più diffusa, è un animale di bocca buona, come si dice. Cioè può attaccare più di 330 tipi di ospiti. Addirittura. Per cui si sposta, voglio dire, può andare sugli uccelli, eccetera. Se le condizioni ambientali sono buone, cioè c'è buona umidità, c'è una copertura erbosa, siamo in un sottobosco e ha piovuto molto, è chiaro che ci sono le condizioni ideali. Ma anche se siamo su cemento, perché se ci arriva dall'alto... Sì, diciamo tendenzialmente la probabilità che arrivi dall'alto è più bassa. Si è visto che succede, però diciamo non è la metodica principale. Nella regione della nostra regione le ho viste camminare sulla ghiaia, sul cemento, quindi dove non c'era erba. Sono animali estremamente resistenti. È chiaro che non possono vivere sotto il sole. Cioè non è un caso, il dottor Ruscio lo può confermare, che le affermazioni che sto facendo collimano con quelli che sono i dati anche di accesso ai pronto soccorsi. Sono anche brutte come... Sono brutte da un punto di vista umano, molto belle dal punto di vista evolutivo, perché sono molto abili... Dal punto di vista evolutivo immagino. ...molto abili a sfruttare tutte le condizioni possibili per, diciamo, attaccare anche l'uomo. E anche per eliminarle, no? Sono anche animali estremamente resistenti. Difatti, diciamo, l'unico tallone d'Achille che questi animali hanno è la carenza di umidità, il secco. Pertanto una delle tecniche che si utilizza per essere certi che non possono sopravvivere sui vestiti, perché uno dei problemi è quello che molto spesso le persone vanno a fare una passeggiata, si vestono anche bene, mettono dei calzettoni lunghi, eccetera, però poi dimenticano di sottoporre i vestiti a un lavaggio, ma spesso non basta e, diciamo, anche un'asciugatura consuma. Si è visto che il 100% delle zecche viene eliminato tramite un'asciugatura in asciugatrice, perché questo... E sotto il sole? Sì, sicuramente, voglio dire, riduce l'impatto. Se possiamo fare un passo indietro, diciamo che un punto fondamentale è quello di cambiare un po' le abitudini. Cioè, nel senso, tener presente che dopo un'escursione in un ambiente che potrebbe essere, diciamo, pericoloso, perché è noto che ha un'elevata densità di zecche, bisogna ricordarsi che una volta rientrati a casa è necessario farsi una doccia, perché non è vero che le zecche si conficcano immediatamente sull'ospite, sull'uomo. Sono animali che devono decidere se vale la pena o no. Ah, quindi non è? Salta su? No, devono decidere se l'ospite è quello buono. Per cui... Ah, quindi anche questo. Hanno un meccanismo di riconoscimento. Ogni azione che noi facciamo in questo lasso di tempo... Quindi può essere anche che possa variare tra individuo a individuo, anche... Assolutamente, perché ognuno... Su qualcuno si attacca più facilmente, su qualcun altro. Ognuno di noi ha un suo profilo in termini di... Come per le zanzare, no? Esattamente, per cui ci sono delle persone che sono più soggette o meno soggette. Certo è che se tu vai a fare una passeggiata in un ambiente estremamente infestato, anche se non sei proprio la bistecca più profumata, a un certo punto verrai punto lo stesso. Per cui l'importanza di ricordarsi, cioè avere delle procedure nuove. Noi come specie umana non siamo abituati a dei cambiamenti repentini. E questo è quello che sta succedendo. I nostri nonni non lo facevano, per cui tu continui a non farlo. E questo è un errore. Bisogna rientrare a casa, se è possibile lavare gli abiti, perché si è visto che, ad esempio, le zecche piccole si nascondono anche nelle cuciture dei jeans. Per cui tu indossi gli abiti il giorno successivo e scopri di avere una zecca, dici ma com'è possibile, voglio dire, non sono stato a fare un'escursione. Per cui mettere in atto una serie di procedure standard. Ce lo devo fare ogni volta che vado in un'area che può essere infestata da zecche. Una doccia, un lavaggio degli abiti e, se è disponibile, un'asciugatura in asciugatrice che dà la garanzia assoluta. Dal punto di vista medico, dottor Ruscio, visto che lei da anni si occupa di questi insetti fastidiosi, aracnidi, no? Non fanno parte? Non insetti. Non insetti, aracnidi. Ma io, a te la verità, non mi occupo di questo. Non si occupa solo di questo. Devo ricorrere alle competenze degli amici che mi insegnano e ci insegnano tante cose. Però negli anni che furono, nessuno parlava. Era stato lei a evidenziare il problema ancora nell'egemonese, io ricordo. Sì, 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 negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, sì. Sì, di fatto la... Nessuno ha proprio pensato. La medicina si è, come dire, interessata delle conseguenze che questi parassiti trasmettono con la malattia di Lyme, che è stata, come dire, classificata nell'85 con il famoso congresso a Vienna. Dopodiché ci siamo resi conto, in realtà, che chi lavorava su questi ambiti, i casi non erano così infrequenti, anzi, erano molto numerosi. Abbiamo imparato molto in questi trent'anni dal quotidiano, dal curare questi pazienti. La malattia, come è noto ormai più comune, è questa malattia di Lyme, trasmessa con un mosso di zecca causata da un battere, la vorelia burdolferi, che, veicolata appunto con la saliva del parassita, entra questo battere nella cute, si moltiplica nella zona del morso per, diciamo, 8-10 giorni, solitamente non succede nulla, in seguito comincia a migrare, a diffondersi, perché la sua struttura è fatta come una... è appunto una spirochetta, quindi penetra i tessuti come fosse un cavatappi. E in questa migrazione la cute si arrossa, può arrossarsi, c'è appunto le prime manifestazioni della malattia. La malattia evolve in stadi successivi perché, se non curata, passa nel sangue, si localizza in molti organi apparati e, in alcuni casi, 8% di questi casi, cronicizza con manifestazioni persistenti che durano parecchio tempo negli anni. La rimozione, perché anche questa è una cosa importante. Sì, la rimozione è il primo... Dopo aver preso tutte le precauzioni può succedere, quindi come la rimuoviamo? Diciamo, è importante rimuoverla subito, prima possibile, senza andare in pronto soccorso, imparando a farle da soli. Sono in commercio degli utili strumentini che rimuovono questo parassita. Sono come delle forchettine e lo si filano. Io faccio sempre l'esempio per farsi capire come il martello del carpentiere rimuove un chiodo da una tavola. Lo scopo di questa procedura è che... Quindi non le pinzette, assolutamente no. Meglio di no, perché lo scopo è quello di non schiacciare il corpo. Però se uno non ha la forchettina a casa... Diciamo, deve usare qualsiasi strumento o modalità che gli consente di afferrarla quanto più possibile vicino alla cute, ma senza schiacciare il corpo, perché la trasmissione di questi agenti patogeni nel tempo è progressiva. Se schiacciamo il corpo, tutto quello che ha dentro viene trasmesso in termini di poco tempo. Quindi è meglio non farlo se non si ha gli strumentini a casa. Ecco, dopodiché si guarda... Che poi è una cosa banale, si trova dappertutto, costa pochi centesimi. Certo, certo. Quindi sarebbe bene averlo. Sarebbe bene averlo, l'abbiamo introdotto anche andando a cercarlo, quello che si vedeva. Queste cose le abbiamo trovate all'estero e abbiamo fatto arrivare appunto questa abitudine di usare questi device. Anche perché non vanno toccate con le mani, lo dobbiamo dire, perché anche piccole discontinuità nella cute che tutti abbiamo possono essere la porta d'ingresso per questi agenti microbici. Che poi questi strumentini servono anche per chi ha animali in casa. Esattamente. Perché non c'è collarino che tenga. Prima o poi può succedere, no? Più frequentemente nei cani o nei gatti? Ma diciamo, in entrambe le specie. In entrambe le specie. Se possiamo aggiungere ancora... Pensavo soprattutto nei cani, non tanto nei felini. Diciamo che sì, anche lì dipende quali sono le abitudini dell'animale e dove vive. Diciamo, tornando al discorso delle pinzette, in commercio c'è un solo tipo che viene usato in maniera molto estensiva e da una... Questo può essere una notizia utile per gli ascoltatori. Sono vendute in coppia, cioè sono vendute con una tipologia un po' più grande e una tipologia un po' più piccola, perché delle volte è difficile togliere una zecca piccola con una pinzetta grande. Per questo motivo, diciamo, quelle migliori sono vendute con la stessa struttura. E sono verdi, no? Sì, sono verdi, le fanno anche di altri colori, ma indicativamente sono verdi. Generalmente le trovo verdi. Ecco, per cui bisogna pensare al martello da carpintiere che fa un movimento anche di rotazione. Leggermente rotatorio. Sì, leggermente rotatorio. Come svitare, no? Cioè una lieve rotazione che deve essere anche lenta, perché mettendo in tensione la cute e la zecca, questa cosa qua crea problemi all'animale, ma non bisogna tirare in maniera molto forte perché questo può far sì che la testa si rompa e rimanga dentro. Andiamo in pausa, ci troviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi. Dottor Ruscia, a questo punto parliamo di medicina, cioè nel senso che cosa fare se appunto compare rossore sulla pelle. Antibiotico sì, antibiotico no, quando, come? L'antibiotico è un presidio indispensabile trattandosi di una malattia batterica. L'eritema è curato efficacemente al 100% dei casi con una somministrazione di normali antibiotici che devono essere assunti nei tempi e nelle dosi corrette. Ecco, dobbiamo dire che questo eritema non c'è sempre e quindi la malattia non dà i segnali all'esordio, per cui mancando nel 40% dei casi talvolta i sintomi iniziali sono di tipo articolare, neurologico e quant'altro. In questi casi le terapie devono essere, diciamo, tarate e condizionate dallo stadio della malattia per risolverla completamente. Non tutti risolvono questa malattia con un ciclo di antibiotici qualora la terapia non sia fatta all'inizio. L'eritema è una lesione iniziale che non dà nessun problema nella terapia. Non bisogna prendere antibiotici troppo o troppo poco. Ecco, quello su cui insisterei è che dopo il morso di zecca non vanno assunti antibiotici se non si sa cosa stiamo curando a scopo preventivo. Quindi bisogna aspettare quanto tempo. Esattamente. Quello che abbiamo, diciamo, fatto in tutti questi anni è dare delle linee guida che limitano il ricorso agli esami di laboratorio e in particolare alle terapie antibiotiche. Quindi dopo un morso di zecca mai antibiotici, aspettare a vedere cosa succede, rivolgersi al medico qualora ci siano sintomi successivamente. Possiamo parlare di mappatura, zone più o meno a rischio? Diciamo che è una... Abbiamo detto che adesso sono dappertutto, anche se non c'è erba... È una domanda un po' complicata. Nel senso che la densità, cioè il numero di zecche che noi abbiamo in una determinata area, è variabile ed è dinamica ed è influenzata da tantissimi fattori. Un esempio classico è, voglio dire, in una valle prealpina, alpina, in cui c'è un passaggio di un gregge di pecore oppure c'è un'alta densità di caprioli, animali che si spostano, questo va a influenzare la densità. Per cui dare un dato e dire che nella zona X rispetto alla zona Y ci sono più zecche è un po' difficile. Bisognerebbe analizzare il problema da un altro punto di vista, cioè prendere atto del fatto che, considerato il grande numero di ospiti che questi animali possono infettare, infestare, possiamo usare due termini analoghi, si possono trovare dappertutto, per cui vale sempre la regola che abbiamo detto prima, che è una regola di psicologia del rischio, cioè dobbiamo seguire delle procedure, anche se, voglio dire, riteniamo di essere in zone con media densità. È chiaro che se io vado in valli, voglio dire, c'è una conoscenza locale in cui si sa che ce ne sono tante, però dipende sempre dal momento, dal periodo dell'anno, della stagione, della piovosità, per cui dare una mappa certa è un po' complesso. TBE ormai è quasi del tutto eliminata, perché c'è tanta gente che si è vaccinata, no? Per fortuna, la nostra regione si è mossa con provvedimenti di prevenzione molto efficaci che hanno ridotto di molto questo rischio. L'anno scorso ci sono stati tre casi di questa patologia in persone non vaccinate. Molto più frequente è il rischio della malattia di Lyme. L'altro giorno, guardavo un momentino di casistiche, dalla mia esperienza iniziata a Gemona per passare a San Daniele, adesso a Trieste, abbiamo, diciamo, avuto modo di curare 112.000 persone. Però? Con questo problema. 112.000, non è mica una cifra? Ecco, questa malattia di Lyme in effetti è la malattia più comune. Ricordiamoci però che da quando stiamo curando questa malattia abbiamo, si sono scoperti più di 20 nuovi agenti microbici trasmessi e presenti in questi parassiti che prima non si conoscevano. Quindi il fatto che questo parassita si nutre dal sangue di animali, di piccoli roditori, fa sì che trasporti con questo suo mosso una serie di rischi importanti per la salute. Repellenti non esistono? Mi piace perché il dottor Ruggio chiede. Repellenti. Ne esistono, devono essere compatibili ovviamente con la vita del bipede umano sul quale vengono utilizzati o degli animali, nel senso che... Ma anche per quanto riguarda l'uomo, spray, non c'è nulla che me le tenga... Ci sono dei repellenti di tipi diversi. Sono efficaci? Sono efficaci ma c'è sempre un margine oltre il quale non possono andare, sia perché non bisogna usare sostanze estremamente tossiche, sia perché comunque questi animali sono tendenzialmente resistenti. Diciamo che è importante invece fare prevenzione... Anche perché si mette l'insetticida e tolgo il problema magari, no? Quando vedo problematiche... È importante fare prevenzione alla base, cioè per cui gli animali domestici... Questi arachnidi non si eliminano con nulla? No, si eliminano, ci sono tutta una serie di sostanze chimiche che possono... Però non è bene mettere nell'ambiente. Però molti di questi hanno dei gradi diversi di tossicità. Ci sono dei repellenti che devono essere usati non sul corpo, ma eventualmente sugli aviti, sulle scarpe, eccetera. Però vale sempre quello che abbiamo detto prima. Sono animali resistenti e bisogna cominciare la prevenzione prima, cioè devo andare a ridurre i rischi. Gli animali domestici che io faccio entrare in casa devono essere trattati sistematicamente contro i parassiti esterni. Se ho il giardino e ho un bel prato, non devo lasciarlo crescere 30 centimetri, perché altrimenti creo io stesso... La condizione. ...una condizione ottima per lo sviluppo di questi parassiti. Per cui ci sono tutta una serie di cose, cioè non so come dire, non c'è una regola unica che ti può salvare. È una questione statistica. Devo ridurre la probabilità di entrare in contatto tramite tutta una serie di azioni. Senta, visto che mancano 4 minuti al termine della trasmissione, riusciamo a dire qualcosa su un... praticamente su un arrivo indesiderato, un probabile arrivo indesiderato? A meno che il dottor Ruscio non voglia darci, no, un messaggio finale per quanto riguarda... Direi che le conoscenze medie della popolazione sono molto buone. I medici, in particolare i medici di medicina generale, conoscono e gestiscono le patologie legate alla malattia di Lyme e alle altre patologie, direi, con un livello di competenza ottimo. E quindi questo avanzamento delle conoscenze nella popolazione e nella classe medica fa sì che, come dire, riusciamo a gestire molto meglio tutto quello che sono queste problematiche. Ecco, certamente il tema Zecchè è un tema che ogni giorno ci pone delle novità, comparsa di nuove patologie e attenzione, ma questo è anche il bello della vicenda, voglio dire. Ecco, questo è un argomento molto interessante. Adesso Paolo ci parla di cose. Infatti, questo, dicevo, no? Questo arrivo, un arrivo che potrebbe essere imminente. Sì, un'attesa non gradita. Gli entomologi stanno tenendo sotto controllo la situazione. C'è un problema che riguarda tutta l'Europa, che cercherò di rissumere in maniera molto rapida. Il problema è che queste, no? Gli avvistamenti sono stati fatti... Ma non sono certi nella nostra regione, per cui di fatto ad ora... A Treviso, mi ha detto, no? Sì, abbiamo questo calabrone, che è un calabrone asiatico, si chiama Vespa Velutina, è arrivato a Parigi con un carico di porcellane, bonsai, via aerea. Dalla Francia si è diffuso in maniera repentina in tantissimi paesi europei, compresa l'Italia, per cui tutto il nord-ovest Italia è stato più o meno colonizzato e quest'animale si sta spostando velocemente ad est. L'ultima segnalazione certa dello scorso anno è a Treviso, per cui la regione Francia Giulia ha messo in atto una serie di campagne di prevenzione e di informazione della popolazione, anche perché la problematica è duplice. Da una parte c'è un problema per quanto riguarda la salute dell'uomo, cioè il fatto di sapere che ci possono essere dei grossi nidi che vengono fatti sugli alberi, ai quali possono raggiungere un metro per 50 centimetri 60 di diametro e sono visibili, scarsamente visibili durante l'estate. Ma per fortuna questo calabrone asiatico li fa abbastanza in alto di solito. Certo è che delle volte li può fare anche in arbusti bassi, per cui l'indicazione generale, visto il poco tempo a disposizione che possiamo dare alla popolazione, è quella di non assolutamente avvicinarsi se vedete un nido del genere, che è normalmente visibile da giugno-luglio in poi. Di solito le persone se ne accorgono, conoscono, sanno dell'esistenza di questo nido soltanto dopo che le foglie sono cadute, per cui arriviamo a settembre-ottobre, ottobre-novembre, in cui il nido di solito è disabitato. Però... Sono aggressive, sono particolarmente aggressive. Hanno un carattere peggiore rispetto ai nostri calabroni, ma non è soltanto questo il problema. Dicevo, c'è un problema di salute umana, per cui il rischio di tutti coloro i quali, per ragioni diverse, possono... Sono allergici, no? L'allergia è relativa, perché sono aggressivi, non bisogna proprio avvicinarsi, per cui tutti coloro i quali fanno attività all'area aspetta. Arrivano sempre le sorprese. Purtroppo il fatto che noi spostiamo merci, spostiamo animali, spostiamo anche cose non gradite. Questo è il problema di fondo. Le nuove malattie che abbiamo con le zecche possono essere portate anche attraverso il traffico illegale di animali, perché quando c'è un traffico illegale di animali, gli animali non vengono trattati per i parassiti, per cui noi spostiamo anche i parassiti. Per cui noi stiamo accelerando quello che è un processo che avrebbe richiesto centinaia, se non migliaia di anni. Tornando al calabrone, l'altro problema grosso è quello di andare a impattare su un ambito che è già in grave difficoltà, ed è l'apicoltura, perché questi calabroni si nutrono di api. Per cui un'altra cosa importante è quella di tenere presente che il loro arrivo comporterà un grave danno per l'apicoltura. Per cui chiunque vedesse dei calabroni che stanno davanti agli alveari, che stanno fermi in volo sul plas, che cercano di prendere le api, deve assolutamente allarmarsi e avertire le regioni sanitarie. Ecco, chi si deve segnalare in questo caso? Allora, la Regione Firenze Giulia ha istituito un gruppo in menotteri che coordina un po' questo tipo di attività. A breve uscirà sia una nota che una brochure, eccetera. Indicativamente il problema grosso è riuscire a identificare con certezza, perché noi abbiamo avuto alcune segnalazioni lo scorso anno, ma dobbiamo aspettare. Per cui vanno contattate fondamentalmente le aziende sanitarie e a breve sarà attivato anche il protocollo con il 112. Grazie al dottor Paolo Zucca, grazie al dottor Maurizio Ruscio. Spero di avervi ancora ospiti in trasmissione, anche per parlare di questi calabroni che spero rimangano... Tutti noi lo speriamo. Ecco, speriamo non arrivino anche qui nella nostra regione. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica Femini dedicata al benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.